Il Castelnuovo espugna il tamburino di Montegiorgio ritrovando la vittoria dopo un mese in mezzo di astinenza. Prova tutta sostanza per i neroverdi che hanno saputo sfruttare le occasioni e poi soffrire il momento di maggior pressione degli uomini di Mengo. Per il rosso-blu invece uno stop che fa male sia per il morale ma anche per la classifica che rimane deficitaria. I primi a farsi vedere in avanti sono i padroni di casa al decimo con una punizione di zerbo dal limite che termina vicino al palo con Natale che sembrava in ritardo sull'intervento. La partita è combattuta soprattutto a centrocampo e per vedere un'altra azione degna di nota dobbiamo arrivare al venticinquesimo quando Albanesi serve zerbo che di sinistro spedisce alto. Due minuti dopo si vede per la prima volta il Castelnuovo con una conclusione di prima intenzione di De Giglio che si perde alta sopra la trasversale. Trascorrono 60 secondi e la palla buona capita sui piedi di Orlando che dall'area piccola spedisce sul fondo. Il finale di tempo è tutto per gli abruzzesi che sfiorano la rete al 37esimo con una capocciata di pulsoni alta, poi al 42esimo l'episodio che rompe l'equilibrio. Duane affronta in area Tancredi spalla contro spalla ma la signorina Bianchi la giudica troppo energica e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta De Giglio che trasforma con qualche brivido visto che Gagliardini aveva intuito la traiettoria. È su questo episodio che si chiude la prima frazione di gioco. La ripresa si apre con un'occasione per Zerbo che riceve palla da Puca e tira al volo ma il pallone finisce fuori. Mengo si gioca la carta a Spagna per un Montegiorgio a trazione anteriore ma al decimo il Castelnuovo ha la palla del 2-0 con Ludovici che tira in diagonale sfiorando il palo. La pressione dei pari di Castelnuovo va sempre più alta ma gli abruzzesi si difendono con ordine senza andare troppo in affanno. Si arriva alla mezz'ora quando Spagna spedisce lontano dei pari, trascorrono 4 minuti e Albanese impegna Natale alla parata a terra su punizione. Al 36esimo si materializza il raddoppio Neroverde, Prestiani recupera un pallone vagante e serve di prima intenzione De Giglio che è fredda di precisione e ne è entrato Forconesi. Il Montegiorgio accusa il colpo e rischia di subire anche la terza rete con Ludovici che trova però l'opposizione del portiere di casa pronto alla respinta di pugno. I Rossobusici provano in tutti i modi e nel secondo dei 5 minuti di recupero trovano il 2-1 con Zerbo che con un tiro di giustezza supera l'incolpevole Natale. Al 49esimo il Montegiorgio ha anche la palla del clamoroso pari ma il giovane Nardella sfiora solo il palo azzerando tutte le speranze di uscire dal campo con un insperato pari. Per il Montegiorgio sarà Natale per riflettere mentre per il Castelnuovo è un successo da cui ripartire per migliorare ancora di più la propria classifica. Il primo tempo era una partita molto chiusa, un po' tutte e due le squadre un po' impaurite anche perché era una partita importante. Poi c'è stato il rigore che un po' ha cambiato un po' la partita. Poi al secondo tempo giustamente abbiamo spinto, sapevamo che potevamo prendere qualche contropiede però faceva parte un attimo della situazione che si era creata. Abbiamo preso il 2-0, poi è normale che fai fatica a recuperare una partita. Dispiace, la responsabilità di questa situazione è soprattutto la mia. Mi dispiace perché comunque vedo un gruppo che si allena bene e tutto quanto, però la domenica alla fine i risultati non arrivano. Penso che, ripeto, il responsabile maggiore sono io. Un peccato perché, ripeto, al gruppo non gli posso dire niente. Anche oggi un po' di fortuna, anche se il 2-1 abbiamo preso un palo, abbiamo creato abbastanza. Però alla fine i risultati sono quelli che contano, la classifica è quella che è e sicuramente non è positiva. Abbiamo messo in campo una squadra battagliera per esigenze, ma questi ragazzi non finiscono mai di stupirmi perché anche se oggi qualcuno ha dovuto giocare fuori ruolo, la prima volta che giocavano un ruolo in cui non hanno giocato hanno dato proprio tutto quello che avevano ed è quello che gli avevo chiesto. Sono contentissimo prima di tutto per loro perché dopo un mese e mezzo che non vincevano hanno ritrovato la vittoria e mi auguro che si ricominci a trovare un po' il più di morale, un po' il più di tranquillità. Sì, abbiamo preso un gol che era impossibile prenderlo a difesa schierata e questo è un po' quello che ci ha caratterizzato in queste ultime partite. Penso che il palo, che magari sia cambiata la ruota perché ha cominciato a girare nel modo giusto perché finora tutte le avversità che abbiamo avuto, magari fra un mese fa, dieci giorni fa, questo era gol. Adesso hanno preso il palo, l'hanno tirata fuori. Se gira un po' anche per noi non ci dispiace.